Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È una questione industriale molto importante, rilevante, con alcune soluzioni praticabili e alcune soluzioni di medio periodo. Grazie a tutti. 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 All'interno del nostro pianeta. Grazie a tutti. 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 mi porta dal prodotto al consumatore e la logistica che torna indietro con i pezzi o il prodotto e i materiali di riciclo. Bene, questo flusso è stato detto molto bene prima da Bonpan, funziona solo se lo progetti, così com'è. Quasi quasi non ci siamo, c'è un bellissimo esempio delle conil di aquafil, se non sbaglio, che raccontano che non riescono a fare il nylon, sostanzialmente la buona vecchia fibra di nylon, è un polimero relativamente semplice si può fare anche da glucosio, quindi da zucchero, si può fare quindi biobased, è un prodotto durevole, non biodegradabile, ma durevole, e può essere riciclato, però è facile riciclarlo se io ho nylon nella rete da pesca, 100% nylon, tolgo il pezzo di corda, il pezzo di sughero, il piombo e ho nylon riciclabile. Se ho un tessuto, ordito e trama, di due materiali diversi, l'unica sorte compatibile con l'economia di oggi è bruciarlo. Quindi il riciclo qui funziona solo se è progettato. Gli ecosistemi hanno una portata determinata, non superabile, quindi posso avere un flusso di materie prime di origine bio che mi alimenta la mia economia e torna come riciclato, sì, ma con quello che dicevamo prima, sistema energeticamente aperto, un tanto di radiazione solare a metro quadro, un tanto di terreno disponibile e la produttività dei terreni è quello che è, con la fotosintesi, con il fotovoltaico, con quello che volete, ma c'è un limite fisico. E qui entra in gioco anche la demografia, cioè questo pianeta può essere sostenibile, ma per quanti miliardi di persone? Qui si aprirebbero altri discorsi. Oggi ho il compito di concentrarmi su questo e su questo. Cioè ci sono alcuni materiali che non possono essere di origine bio e che vengono indubbiamente prelevati dall'ambiente, portati a consumo e prima o poi rilasciati. Quello che diceva prima il professor Reini, se cerco di estrarre un materiale, o anche il professor Birvilacqua, scusate, non vorrei confondermi i due, cerco di, facciamo un esempio in un altro contesto, cerco di tirare fuori la vaniglia dalla torta. Cioè una volta che io ce l'ho messa dentro, c'è, è lì, ma tirare fuori un componente, una sostanza da una soluzione in cui è molto diluita, non avrà mai l'efficienza del 100%. E più cerco di tirarla fuori, più sarà diluita, più mi costerà. Quindi devo dare anche per scontato che c'è una quota di rifiuti. Allora, in tutto questo ci siamo occupati negli ultimi sei mesi con un piccolo gruppo di ricerca di un particolare problema. Nasce da una sollecitazione, insomma non vi racconto l'intera storia, ma nasce da una domanda precisa come abbiamo cercato di dare una risposta. Ha senso cercare di investire in Italia nel riciclo di materie prime essenziali, cioè di critical materials? Quali attività si possono fare in Italia in questo settore? Allora, cominciamo a capire, a dare qualche definizione e capire di cosa stiamo parlando. Parliamo sostanzialmente di materie prime utilizzate per la produzione di elettronica, non solo i circuiti condensatori, ma anche magari i magneti per i motori, le batterie, i catalizzatori, le superfici attive della combustibile, eccetera. Adesso non voglio entrare troppo nelle tecnologie, ma da dove vengono le materie prime per fare questi prodotti? Il tema è abbastanza noto, lo potete trovare magari in linguaggio un po' tecnico in inglese. Abbiamo fatto una sintesi per i decision maker, per gli investitori in italiano, che faccia un po' una panoramica del settore. Allora, cosa succede? Che la Commissione Europea già circa dieci anni fa si pone questo problema, un problema tipicamente di ingegneria industriale. Da dove vengono le mie materie prime? Quante ce ne sono? Quante ce ne saranno in futuro? Chi me le dà? A quali prezzi? E comincia a fare una classifica di questo genere. Questa è la fonte della Commissione Europea, in ultima analisi. Le classifica secondo importanza economica e rischio di approvvigionamento. Importanza economica significa che vanno a prendere dei dati statistici, quante materie si usano in vari settori, in quanta quantità e quanto quel settore pesa sull'economia globale. E ottengo un indice che mi dice, qui sull'asse orizzontale, l'importanza economica della materia. Il rischio di approvvigionamento è una valutazione geopolitica dei paesi. Io so che quella materia viene per l'80% dal paese X. Il paese X è già valutato con un indice di rischio geopolitico e quindi li metto e trovo le terre rare quassù, trovo il fosforo, il magnesio, lo scandio, il berillio, eccetera. E quindi trovo una serie di materiali che, se stanno sopra le due soglie, sono definiti materie prime essenziali che hanno quindi una grande importanza economica e un elevato rischio di approvvigionamento. Da dove vengono? Vengono molte di queste, guardate la lista, questa è la quota di approvvigionamento dalla Cina di alcune materie, dal 40 al 90%. Ora, senza entrare nello specifico del dato statistico, che non so quanti possa interessare appunto l'esatto numero, cerchiamo di capire a cosa servono e dove si usano. Allora, si tratta di materiali che vengono appunto, che sono disponibili in pochi posti al mondo, quindi in pochi posti al mondo c'è la miniera relativamente accessibile dalla crosta terrestre e quindi se volete quel materiale, lì dovete andarlo a prendere. Alcuni di questi sono detti terre rare, non perché non sono né terre né rare, ma abbiamo mantenuto un vecchio nome, ma le terre rare sono in realtà diluite, cioè ci sono in quantità ragionevoli, in pochi posti e immersi in grandi quantità di rocce d'altro tipo. In più sono materiali che dal punto di vista chimico sono ben legati agli altri, non entro nel merito degli orbitali, ma sono ben legati agli altri, quindi per tirarli fuori non basta un martello, devo usare dei reagenti e ho tanto scarto. Per un chilo di materiale pregiato ho tonnellate e tonnellate di roccia da scartare e danni ambientali pesantissimi nel luogo in cui vengono estratte. Ci fosse anche una miniera in Europa, con le tecniche estrattive che abbiamo noi, con le normative di rispetto ambientale che abbiamo noi, saremmo completamente fuori mercato. Quindi abbiamo in casa condensatori, magneti permanenti, eccetera, grazie a materiali che stanno creando danni ambientali. Questi materiali vengono usati per assurdo in alcuni dei settori green più interessanti al momento, per esempio nel fotovoltaico e nell'eolico, soprattutto su nell'eolico, grandi generatori, quindi magneti, che usano questo tipo di materiali negli accumuli e nelle batterie, nella mobilità elettrica, qui. Non mi soffermo per un tema che mi ha passione, non voglio prendere tempo a questa relazione. Quindi abbiamo due sostanzialmente grandi categorie, quella delle terre rare specifico, proprio come gruppo chimico, e quella dei critici era un materiale un po' più ampia, che hanno una rilevanza, eccoli qua, è una rilevanza non solo tecnologica ma anche politica. Poche settimane fa la notizia che Trump ha minacciato, ha attuato, insomma, un sostanziale bando a Huawei, Xi Jinping ha risposto con due parole, anzi non l'ha dovuto neanche nominare, ha solo lasciato intendere, è andato a visitare una fabbrica di magneti, non mi ricordo esattamente cosa, no? Io la fabbrica di magneti ce l'ho, no? Come dire, fatemi le foto, io il magnete. Ecco, quindi è vero che poi c'è tutta la guerra commerciale, adesso la prendiamo come simbolo, ma c'è la guerra commerciale Stati Uniti-Cina, in cui la Cina compra l'elettronica dagli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti comprono un terre rare dalla Cina. E l'Europa in tutto questo non ha le terre rare e non ha la prima parte della filiera elettronica, ne ha alcune, fa magari il prodotto finito, ma non fa né il componente né la materia prima. E questo è un passaggio importante. Allora, se si gioca sulle guerre mondiali dei Dazi, si giocano anche sulle terre rare, questa cosa oggi si è vista solo con uno scambio di articoli di stampa, ma qualche anno fa, per chi ha seguito un po' il settore, c'è stato questo interessante andamento, prezzi delle terre rare sostanzialmente molto bassi, con piccole fluttuazioni, un aumento vertiginoso attorno al 2011, rientrato subito dopo. La Cina semplicemente ha ridotto l'esportazione, ha fatto notare che, così, vedete se ce l'avete anche voi o se proprio le volete comprare da me. Questo ha lanciato appunto progetti di ricerca, iniziative, Horizon 2020 ha cominciato ad aprire anche i suoi bandi su questo. Quali sono stati i risultati? Allora, siamo andati a vedere, con un motore di ricerca sulla letteratura scientifica, chi si è mosso 2008-2018 in questo settore. I risultati sono stati sconfortanti, cioè c'è una certa produzione di ricerca, che è quella che poi sta nei TRL più bassi, cioè nei technology readiness level più bassi, dove c'è la prima generazione di conoscenza che poi preluda alla generazione di innovazione e quindi di prodotti. C'è stata un po' di ricerca, ma qui parliamo. Ognuno di questi pallini fa riferimento ad un articolo scientifico, ad un autore di un articolo scientifico sui critical raw materials. Ne hanno parlato in Germania, in Italia, in Polonia, in Francia, in Regno Unito, con un trend che si è concentrato nei primi anni e poi è calato. E ne hanno parlato in diversi ambiti, che sono, questi sono gli ambiti di ricerca nei quali si è, le journal categories, per chi è poi del settore, quindi ne hanno parlato in termini di waste, di rifiuti, quindi di ingegneria, di scienze ambientali, di energie rinnovabili e di fisica dei materiali proprio. Ma non si è arrivati ad una, quello che speravamo, immaginavamo, una significativa produzione di ricerca di base sui materiali sostitutivi. Probabilmente perché non c'è la possibilità, siamo a TRL zero, non abbiamo ancora capito se barra come si può fare. E questo non è una critica alla scienza, è probabilmente l'osservazione che magari non si può fare, non tutto si può fare in fisica, quello che c'è, c'è. Ulteriore sguardo sul tema dove si sta mettendo i soldi la ricerca pubblica. La Commissione Europea mette in Horizon 2020 alcuni milioni di euro su alcuni tipi di progetto. Le RIA sono le Research Innovation Action, quelle che vanno più alla ricerca di base, Technology Readiness 3.5, quindi ricerca di base in laboratorio, ma anche poi nelle fasi successive, 6 o 7, quindi ricerca più vicina al mercato. Si cercano nuove soluzioni per la produzione sostenibile di materie prime, recupero di materiali dai fondali marini, efficienza nella riciclo e produzione. La sostituzione delle terre rare non è nei pensieri della Commissione e probabilmente non è neanche nei pensieri dei ricercatori di punta di questi settori. Chi ci sta lavorando? Abbiamo cercato di capire chi ci lavorasse in Italia, non siamo nella top 20, quindi in Italia sostanzialmente l'Enea si muove in questo settore, più singoli ricercatori universitari con le proprie linee, ma non c'è uno sforzo collettivo e strutturato dell'Italia in questo ambito. Allora, se vogliamo occuparci di critica raw materials, dove andiamo a prenderli? Oltre che in Cina, che ha una sua logica e non possiamo influenzarla più di tanto, possiamo immaginare di andarli a prendere nei rifiuti e nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dico lavatrici, cellulari, qualsiasi pezzo che abbia una batteria e uno schermo e qualche componente elettronico. Lo stiamo già facendo in qualche misura? Sì, certo, il riciclo funziona, tecnicamente si può fare e in alcuni casi si fa molto bene. Ci sono delle chiare percentuali di riciclo di alcuni critica raw materials abbastanza importanti. Altri però rimangono a questi livelli. Perché un livello di riciclo così basso? Un po' può essere dovuto al fatto che il mercato sta crescendo. Quindi anche se io riciclo il 100%, ma il mercato raddoppio ogni anno, quel 100% diventa già 50%. Un po' però ci sono oggettive problematiche tecniche e anche economiche. Vi faccio un esempio molto semplice. È un progetto europeo che è stato abbozzato, ma poi abbiamo scelto di non portare avanti. Riciclare i magneti che si usano nel certo componente automotive, negli iniettori delle autodiesel. Tra l'altro l'autodiesel non ha il loro destino da vedere. Ma sono degli oggetti tutti uguali, prodotti a milioni di pezzi, omogenei, monomateriale. Tecnicamente sembra sia possibile semplicemente fonderli e rigenerare l'oggetto nuovo. Cos'è che non funziona in questo riciclo? Che tu dovresti identificarli, capire che è proprio quel materiale lì, non il suo cugino, riportarlo al produttore che non è in Europa. E in più dovresti smontare tutto quello che ci sta attorno e avere in mano solo quel pezzo. Quindi c'è una serie di problemi meccanici, logistici e informativi apparentemente molto semplici, ma che fatti sui milioni di pezzi sono insormontabili. Questo schema vi riassume alcuni di questi temi. Cioè l'estrazione delle materie prima e quassù avviene in alcuni paesi. La raffinazione tipicamente avviene negli stessi paesi di produzione, non sempre, ma in Cina si arriva spesso fino a questo punto. La produzione di componenti può avvenire in altri paesi. E poi la produzione di prodotti. Quindi qui io produco la lavatrice con la scheda elettronica fatta con i transistor che mi arrivano dagli Stati Uniti, ma le terre rare arrivavano dalla Cina. Poi vado giù a tutta la filiera, distribuisco, vendo ai consumatori, utilizzo, dismetto nel migliore dei modi possibili e vado a raccolta e riciclo. Per cui in una lavatrice smonto i pezzi di ferro, tolgo i pezzi di plastica, tolgo la gomma e mi restano a un certo punto delle schede elettroniche pregiate. Un bel pezzo di motore con dei magneti. Bene, supponiamo diventare appunto un buon processo di riciclo a costi convenienti. Mi trovo di fronte, un po' vecchio a materie prime e secondarie, quindi passo per una procedura di end of waste e faccio la produzione di componenti. Sì, lo devo portare in America. Devo trovare qualcuno che me lo compra, il prezzo che va bene ad entrambi. Quindi, se tutto questo giro funziona, anche se qui rimuoviamo la barriera normativa, ad oggi il costo del riciclato è più alto del costo del materiale vergine. E questo, finché non cambiano questi livelli di prezzo, per qualche motivo, non riusciamo ad avviare una filiera pratica e produttiva. Da cui anche il senso di non metterci dei soldi di Horizon Europe, di Commissione Europea, su una cosa che per oggi è in prospettiva, non riesce ad avere un senso economico. Quindi, la sostenibilità dei processi di riciclo e recupero deve essere sia tecnica che economica. Torno solo un secondo indietro di una slide per dirvi un'altra cosa, invece che qui c'è un altro ciclo che vorrei commentare, cioè quello del riutilizzo dei componenti. Cioè, può avvenire a diversi livelli. Quando io sono di fronte ad un oggetto anche complesso, come un'automobile piuttosto che una fotocopiettrice o anche un semplice tostapane o un telefono, oggi sono costretto a buttarlo via. Anzi, ci sono imprese che vivono di obsolescenza programmata. Io ho un telefono, mi è dispiaciuto molto non riuscire più ad usare il mio telefono di iPhone di dieci anni fa, ma oggettivamente il software non va più. Non si attacca la maggior parte delle slide, la batteria non me la cambiano perché non c'è il componente. ho dovuto comprare uno nuovo, pur avendo un hardware sostanzialmente funzionante. Quindi, questa strada qui è l'unica strada che riusciamo a percorrere in Europa, tutta all'interno del nostro sistema doganale, legislativo e tecnologico. Quindi vado a concludere con ancora due cose. Quindi, la piramide delle priorità, che sostanzialmente è quella che mostrava Paolo un attimo fa, è questa, ridurre e prevenire. Si dice anche nella prima R, poi in inglese vengono tutte R, in italiano forse sarebbe più chiaro cambiarle alcune, ma si tratta di prevenire i rifiuti, progettare per una durabilità del prodotto, progettare per la riparabilità del prodotto e la sostituzione di materie prime non riciclabili con altre. Ove è possibile? Perché, ripeto, la sostituzione, che è il secondo livello di questa piramide, è possibile in alcuni casi, ma non in altri, sostituire la plastica con cui faccio una parte di quella sedia, piuttosto che questo telecomando o i pneumatici della mia auto, con un biopolimero di qualche tipo, è possibile o pensabile? Sostituire il neodimio, piuttosto che l'oro o il rame, con un biopolimero, no, non è di questo. Nella chimica che conosciamo non c'è questa cosa. Quindi ci sono alcune materie prime sostituibili, altre no. E su quelle sostituibili è sostanzialmente un problema di volume. Su quelle non sostituibili c'è qualcosa da fare. Si può fare qualcosa anche per l'elettronica? Cioè, com'è fatta l'elettronica circolare? Allora, i prodotti con contenuto elettronico o materiali magnetici con proprietà magnetiche sostenibili non vanno pensati in termini di riciclo, vanno pensati in termini di durabilità e riuso. Ci sono alcuni esempi, adesso ne ho preso uno piccolino e abbastanza a caso, quello del Fairphone, un telefono, semplicissima idea, un telefono fatto apposta per essere riparato, riciclato, per durare a lungo e supportare N versioni di software, con uno schema di ritiro, riparazione e vendita dell'usato da parte dell'impresa stessa. Questo sistema è solo uno dei passi. Si può anche immaginare di ampliarlo ulteriormente, anche se in questo momento nessuno lo sta facendo. Ad esempio, con la progettazione e l'utilizzo di elettronica multifunzionale, multipurpose, cioè schede elettroniche Arduino, per chi ama il genere, in quello stile lì, ma più industriali e più piccole, se vogliamo, che possono essere riutilizzate. Oggi le riutilizzo nella lavatrice, e quando la lavatrice ha finito il suo ciclo e riciclo, la sua terza vita, quella scheda, se ancora integra e funzionale, può andarsene a fare un'altra cosa, magari come piccolo componente, in una macchina industriale o semplicemente riprogrammando il software e mantenendo l'hardware stabile. Questo sforzo, pur essendo concepibile da un punto di vista ingegneristico, è in realtà un disastro dal punto di vista normativo e di standardizzazione, perché dovrei stabilire standard di lungo termine e multisettoriali e trasversali. Quindi in questo settore c'è molto, moltissimo da fare e la conclusione di questo nostro lavoro è semplicemente una conclusione un po' negativa, ma a volte, specialmente nel caso di start-up, è meglio essere consapevoli dei problemi iniziali per evitare di investire in un settore. riciclare le terre rare non è la strategia vincente in questo momento, la strategia per terre rare ed elettronica è indubbiamente quella della durabilità e del prolungamento della vita utile dei prodotti, il contrario dell'obsolescenza programmata, quindi una bella sfida soprattutto dal punto di vista dei modelli di business e della logistica complessiva della produzione di massa. Bene, con questo è tutto. Grazie.